Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, tornano le review visto che il periodo è un periodo nel quale praticamente siamo bombardati di giocatori che ci vengono rilasciati a tutte le ore del giorno e della notte, vado a provarli in maniera tale da darvi consigli su quali vale la pena effettivamente andare a fare un investimento o meno. Oggi abbiamo un po' di tutto tra SBC, carte che è possibile prendere sul mercato, icone, patto to glory, partirei però da quello che secondo me è il pezzo forte di questo video, un giocatore assolutamente must have e sto parlando di Bradley Barcola, un esterno veramente fortissimo, costo irrisorio per la sua sfida creazione rosa ovvero solamente 180.000 crediti, un giocatore di 1.86m quindi proprio un bel body type per giocare in fascia, alto normale di work rate, 5 stelle skill, 4 piede debole, piede preferito il destino. Per quanto riguarda i ruoli è possibile schierarlo AD e D, ATT e AS quindi anche in ottica ibridabilità è veramente spaziale perché può andare a giocare in tutti quelli che sono i ruoli dell'attacco, principali ovviamente. Per quanto riguarda le statistiche abbiamo un giocatore incredibilmente rapido, una velocità che sentite tantissimo sia palla al piede che quando andate a cercare di fare uno speed boost che possa essere sia col doppio passo che con l'L1 corsa. Bene anche la finalizzazione e la potenza tiro soprattutto quando Barcola si ritrova sul suo piede forte perché con il mancino alle volte l'ho trovato un po' balbettante cosa che però andate a sopperire come problema utilizzando il time and finishing. Infatti con la finalizzazione a tempo quando prendete il verde è praticamente una sentenza. Giocatore poi dotato anche di un buon passaggio corto che per servire compagni dall'esterno verso l'interno è ottimo. Molto agile palla al piede, infatti rispecchia tantissimo sia il 94 che il 96 di reattività. Nonostante sia un giocatore di un metro e 86, forza 80, aggressività 80. Stile d'intesa consigliato, io gli ho dato un bel predatore per bustare tiro e passaggio, evitare di appesentirlo dunque dandogli fisico che secondo me non gli serve. Questa è la lista degli upgrade che dovrebbe prendere, non dico tutti, ma probabile visto che la Francia è una delle serissime candidate alla vittoria finale degli europei. Per quanto riguarda gli stili di gioco, spaziali, il tecnico e il rapido plus, molto bene anche il cross, vi sarebbe piaciuto avere il tiro a giro plus ma magari lo prenderà come playstyle aggiuntivo dopo aver aggiunto appunto quello slot lì di upgrade. Raga, lui per favore sbloccatelo, fatevi questo piacere perché è veramente un giocatore del quale poi potreste pentire di aver lasciato lì. Per quanto riguarda invece altra SBC uscita recentemente, quella di Hernan Crespo, vi dico già che per me non è un grandissimo sì e vi dico il motivo. È un giocatore di un milione e mezzo come sfida creazione rosa, un metro e ottantaquattro, quattro stelle skill e cinque piede debole, quindi una sorta di bayheader se vogliamo. Può fare la TT e la T è un giocatore che per via delle sue gambette, perché un metro e ottantaquattro sì però ha un body type molto mingerlino in game, non è che prende questa gran velocità soprattutto quando si ritrova a correre in campo aperto, per carità ha una grandissima finalizzazione testimoniata dal 99 stesso e dal 94 di potenza tiro, ha dei discreti passaggi ma niente di superlativo, si muove bene palla al piede, 97 di agilità e 96 di reattività con 91 di equilibrio, però non è un movimento così fluido per via dell'85 di forza che comunque tendenzialmente appesantisce un po' il giocatore vista anche la stazza di un metro e ottantaquattro. Playstyle, bene il tecnico, l'aerial non è che lo sentiamo più di tanto visto i difensori che ormai sono dei colossi e lui è solo un metro e ottantaquattro, bene anche il power shot per poter finalizzare e avere una arma in più davanti la porta, però onestamente visto quelle che sono le alternative che ormai si trovano scambiabili sul mercato, eviterei di mettere dei soldi su questo crespo, tenerli bloccati lì perché poi ovviamente non vi ritornano essendo giocatore non scambiabile. Andiamo avanti con invece un giocatore scambiabile, in questo caso parliamo di Frankie de Jong, giocatore veramente incredibile che mi è piaciuto tantissimo, alto alto, metro e ottantuno, cinque skill, cinque piede debole, pagato più o meno un milione e sette, un milione e sei, comunque quello è il prezzo sul quale bazzica questo De Jong, può fare il CC, il CDC e il COC, quindi anche molto versatile in ottica e ibridabilità, rapido, finalizza molto bene davanti la porta, mi ha fatto tanti gol, prende anche rapidità e velocità con il doppio passo, passaggi che sono spaziali, testimoniati dal 99 di corto al 97 di lungo, è anche molto agile, palla al piede, intercetta e soprattutto si fa sentire tantissimo con il contrasto in piedi abbinato al gioco d'anticipo plus, 99 di resistenza, 90 di aggressività, 91 di forza, con un bel playstyle, scusatemi, con un bello stile d'intesa applicato, ancora questo può farvi sia la mezzala un po' più offensiva che giocare anche un po' più però arretrato, magari in un centrocampo a due con uno che vi fa solo ed esclusivamente la fase difensiva. Per quanto riguarda i playstyle, vi dicevo del filtrante, abbiamo il procione, abbiamo anche il tecnico, quindi tutto quanto, un pacchetto di playstyle che secondo me lo rendono totale come giocatore, ha anche il tiki-taka bianco, il lancio lungo bianco, il tiro a giro bianco, il press proven, quindi tutto quello che serve a un centrocampista, percorso dell'Olanda che magari potrebbe essere una sorpresa all'interno degli europei, quindi questo De Jong per me attualmente è uno dei centrocampisti più forti del gioco. Pedri, a differenza invece del compagno del Barcellona, non mi ha fatto impazzire, anche lui alto-alto, 1,74m, quindi più basso, 5 skill e 4 di piede debole, può fare il CC e il COC e non il CDC, giocatore che non ho trovato incredibilmente veloce per via del body type, le classiche gambette, passaggi fenomenali, nulla da togliere a Pedri sotto quel profilo lì, anche molto agile ovviamente, palla al piede, visto il 97 di agilità e il 96 di reattività, 85 la lettura difensiva con 90 di intercetto, onestamente non si sente tantissimo, perché appunto essendo un giocatore piccolino fa un po' fatica ad allungare le gambe, così come si sente anche tanto il 76 di aggressività in negativo perché il giocatore sembra andare un po' pascolando ed è poco incisivo se non lo andate a selezionare. Percorso anche qui della Spagna che è una grande incognita, tra l'altro nel girone dell'Italia chissà come andrà a finire, però potrebbe sicuramente upparsi il buon Pedri. Per quanto riguarda i playstyle abbiamo il filtrante, il tecnico e il tiki-taka plus, con tiro a giro bianco, lancio lungo e rapido, che comunque sono lì a dare una mano, però onestamente a me questo Pedri non ha fatto impazzire da mezzala, non lo consiglio in un centrocampo a due un po' più difensivo perché non vi dà una mano, onestamente andrei più ad investire i nostri crediti su altro. Giocatore che in tanti live mi avete chiesto è questo Christensen, che è un giocatore degli obiettivi e devo dirvi la verità, non è assolutamente male come difensore, è un 1,87, 3,4, quindi dotato di una bella stazza, di una bella presenza in game, è abbastanza rapido, ha dei bei passaggi, si sente tantissimo per quanto riguarda la fase difensiva, il 97 di lettura, il 97 di contrasto, è un giocatore molto automatico per via anche della forza, dell'aggressività che sono ottimi parametri, stili di gioco anche qui molto buoni per quanto riguarda soprattutto l'Aereal e il Mastino per poter dare le spallate con la X, bene anche l'L2 per essere più reattivo nei cambi di direzione avversari, mi piace il blocco bianco, aver preferito a questo punto anche un Procione per non farci mancare niente, però non dimentichiamoci che questo è un giocatore gratuito e sapete che io di solito i giocatori gratuiti consiglio sempre di sbloccarveli e poi alla peggio magari vedete se vi piacciono o no, altrimenti volano in tranquillità all'interno di qualche SBC. Altro giocatore che vi voglio raccontare all'interno di questo video è Drogba, uscito anche lui recentemente tramite SBC del campione della Champions League, il Buon Johnny, questo qua è praticamente il terrore dei Sette Mari perché è uno degli attaccanti, se non l'attaccante più in meta attualmente rapporto qualità prezzo, 1,89, 4 skill e 5 piede debole, ATT e AT come ruoli, molto veloce soprattutto in campo aperto, visto il 1,89 di altezza con i doppi passi tira dritto che è una bellezza, finalizza tantissimo visto il 99 di finalizzazione e il 98 di potenza tiro, passaggi che non ci interessano tantissimo, l'agilità è un po' una pecca di questo Drogba, che andiamo a migliorare dandogli un motorino come stile d'intesa, però comunque con 99 di forza e 1,89 non vi aspettate dei gran miracoli. Giocatore che però ha dei ottimi playstyle perché gli hanno aggiunto il tecnico, ha il powershot, l'aerial, quindi se fate quello stile di gioco un po' meta, con palle alzate per sponde e colpi di testa sui corner, eccetera, per me questo è un attaccante che dovete assolutamente portarvi a casa. Salvo casi rari, nel momento in cui magari avete già un Sorlot, un Gioselo, anche se secondo me di Gioselo e Sorlot lui è un po' più incisivo, però non è che differisce tantissimo, quindi se ce li avete dispari magari, crediti e fodder da voler investire in questo Drogba avendo già quei due bene, altrimenti evitate. Se invece cercate un attaccante con queste caratteristiche perché non volete andare a prendere la land di turno, vi portate a casa Stodid e Drogba che fa assolutamente la sua sporchissima figura. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, soprattutto se avete sbloccato qualcuno di questi, se vi trovate d'accordo con quelle che sono le mie impressioni su questi campioncini. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto nei vostri peroschi e a presto. Ciao!